C'è via Marina che ancora deve essere completata, si sta aspettando che la ditta venga nominata. Entro marzo 2019 bisogna chiudere il lavoro, lei è preoccupato? Sono dispiaciuto, più che preoccupato, perché davvero questa è un incidente di percorso di cui la città e l'amministrazione non hanno nessuna responsabilità. Accade certe volte che delle ditte che si aggiudicano legittimamente le gare non sono adeguate, in questo caso ci hanno creato molti problemi, ma ho buone notizie sul fatto che nei prossimi giorni si debba chiudere l'affidamento all'altra ditta, che sa perfettamente, la vedo e so essere da come mi hanno riferito molto motivata, che per marzo 2019 gli interi lavori saranno completati.